Vogia, ciao Michele, Eugenia, un saluto anche al direttore, bentrovati, si vede che piove, così comincia il giorno e il risveglio a Rio de Janeiro, ma questo non ferma ovviamente nessuno, mi trovo nel centro della città, in un quartiere, vedete alle mie spalle, in cui si stagliano dei grattacieli, è il quartiere finanziario, anche quello commerciale, ma è proprio in questa realtà che spicca, l'avete vista, bellissima la cattedrale, dove fra poco è atteso il Papa ed ecco che noi siamo venuti con un po' di anticipo e vedete le persone che intanto all'esterno attendono il Papa e gli ultimi religiosi assieme ai viscovi, ai seminaristi che stanno facendo il loro ingresso, in modo che sia tutto pronto per l'arrivo del Papa. Allora, piove, ieri giustamente il direttore poneva la domanda sul tempo, che è una variabile importantissima, soprattutto per i pellegrini, soprattutto per i pellegrini, visto che la maggior parte degli eventi sono per l'appunto all'aperto. Ci abbiamo azzeccato, tuttavia le previsioni di stamattina davano sole, insomma, vedremo, è tutto aperto. Vogliamo però cominciare questo giorno, quando sono le 8 del mattino qui in Brasile, a Rio de Janeiro, con il nostro consueto ottimismo e allora sapete che cosa facciamo? Vi mostriamo delle immagini che abbiamo girato nei giorni scorsi, quando a Copacabana non c'erano celebrazioni e così i ragazzi hanno preso qualche minuto di libertà sulla spiaggia. Tutti insieme c'era il tempo, il maltempo e loro, come vedrete da queste immagini, non li ha fermati proprio nessuno. Anche questo è lo spirito di ogni GMG e soprattutto il modo in cui i ragazzi affrontano ogni disagio, divertendosi. E poi guardate che l'acqua non risparmia proprio nessuno. Guardate un po'. Nella cidade meravigliosa sono ora le nuvole ad accompagnare il cammino dei pellegrini. E nel giorno che segna l'inizio ufficiale della prima GMG taggata a Brasile, non è stata certo la pioggia, affermare che ha percorso anche i 10.000 chilometri per essere qui. Era molto freddo? No, però non è molto caliente. Come ti chiami? Mirko. Mirko, che sei per fare? Qui è inverno. Dopo darei la sensazione e farvi capire che qui l'acqua è le stelle. Un, due, tre, via! Alla messa di apertura nella spiaggia di Copacabana sono i canti, la gioia e le preghiere a spazzare via qualsiasi ombra di maltempo. Mentre le onde scherzano coi pellegrini e non risparmiano nessuno, neanche noi. Hi, do you speak English? Yes. Where are you from? No, 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 no. Ieri, come avete potuto vedere, attraverso TV 2000, una straordinaria via Crucis, così intensa, in una Copacabana che si è veramente trasformata. I giovani hanno partecipato numerosissimi, hanno sentito soprattutto ogni stazione vicina alla loro quotidianità. Ma anche lo spirito delle catechesi ha voluto affrontare tre temi. I pastori italiani sono stati così vicini al popolo della GMG con, ancora una volta, momenti di grande partecipazione e riflessione sui temi proposti. Paolo Fucili ha intervistato il vicepresidente della CEI, Monsignor Bassetti è impegnato proprio in una di queste catechesi. Io sono partito da un'affermazione di Papa Francesco, perché Papa Francesco è diretto e sa toccare il cuore dei ragazzi, un po' sullo stile di Papa Giovanni Paolo II. Lui ha detto, andate nelle periferie e le periferie non sono soltanto i luoghi lontani dalla città, ma è diventata una periferia al cuore di ogni uomo. Ho spiegato questo e li ho visti contenti nell'accettare questa proposta. Naturalmente abbiamo parlato, c'è stato anche un bellissimo colloquio da parte loro, hanno fatto tutte le obiezioni. Più di uno mi ha chiesto, ma in concreto, ci dica però, come si fa ad essere testimoni, come si fa ad andare controcorrente? Allora, vi lasciamo alla celebrazione eucaristica tra pochissimo, proprio qui nella cattedrale di Rio de Janeiro, visitata tre volte da Giovanni Paolo II, che proprio in questa GMG è stata da cornici, all'abbraccio con i connazionali argentini. È un cambio di programma che però è stato ovviamente grande, grande gioia, non solo nei ragazzi, ma anche nel Papa. Allora, quella di oggi sarà una giornata molto intensa, avrete modo di ricordarlo, solo per dirvi come, dopo il pranzo del Santo Padre, anche oggi in maniera conviviale, con cardinali, con tante persone che sono presenti qui, vicine al mondo della Chiesa dell'America Latina, e poi ci sarà un qualche ora di pausa nel primo pomeriggio, ma Padre Lombardi ci ha detto come l'energia infaticabile della Santo Padre fa sì che anche in quei momenti il Papa non si riposi mai. E guarderemo dunque alla veglia questa sera, per voi, stanotte, che si svolgerà in due momenti, il dialogo di alcuni giovani con il Papa, con l'adorazione eucaristica. Buona giornata per ora, sotto la pioggia, Dario De Janeiro, buon giorno più tardi.